Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 26 agosto. Ancora stazionario il mercato interno degli oli extravergine di oliva di produzione nazionale. Mercato estero Modeste le trattative con volumi commercializzati ancora in calo a motivo delle ferie e dell'esigua offerta. Le quotazioni puntano al rialzo. La ragione va individuata in una significativa riduzione quantitativa nella produzione di olive per la persistente siccità e le temperature elevate. Vediamo il consueto raffronto di prezzi tra i diversi paesi olivicoli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Italia 4,90 euro, Portogallo 4,10 euro, Grecia 4 euro, Spagna 3,95 euro, Marocco 3,75 euro, Tunisia 3,80 euro, Algeria 3,50 euro Turchia 3,50 euro Frenata nei consumi sul mercato nazionale dei prodotti certificati DOP e IGP. Rispetto inizio anno la tendenza si presenta con un meno 6, meno 8% nei volumi e un più 22% di valore a scaffale. Tengono le quantità cedute al mercato estero che rappresentano circa il 57-60% nei volumi e dei valori della filiera. Prodotto biologico Anche per questa certificazione abbiamo avuto un calo nei consumi tra il 2 e il 3% che si considera normale per il periodo. Vediamo il biologico italiano a 5,45 euro chilo, il biologico spagnolo a 5,15 euro chilo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.